C'è una certa granità oggi noi siamo al Mattel che stiamo vedendo come fabbricano una marea una marea, una marea, un'infinità di giochi! Twills, Barbie, ma sai che i giochi più famosi del mondo Guardate alcuni giochi che hanno creato Adesso siamo nel laboratorio delle Barbie Sì vediamo come fanno Barbie, guardate quanti sono A me piace, guarda che capelli lunghi Adesso sticci la hair in Do you want to put pink in her hair? Uh huh Why don't we put pink starting hair? Working 3D model so that we can This is for us The needle comes up and it's like a hook We have some fantasy colors This is gonna spray a color over the face So we're gonna spray it light brown for her shadow Why are they squishy? And that comes out like that And there's the belt buckle We use for Toy Story 4 Barbie's belt That's how we make a Barbie Step by step Pasλα Queste sono stampanti 3D Stampano i giochi in 3D Sì, vediamo come. Sì, vediamo qui. All right. Also, this is a Super Sneak Peek. Very very early model. Do you guys know the RC car from the Toy Story movies? sette STUD. Sì, certo? in messico tanto qua vicino ragazzi è stata una bellissima giornata veramente vediamo i regali che ci sono pop corn, dolce americane, capellino, 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 come sta? che chiamo? una baraccia, una baraccia che mi serviva, si da un box di mattel, una usb e una pennina per fare i tattuaggi e questo è Woody, bravissimo tutto lo staff di mattel, vogliamo ringraziarli per questa bellissima esperienza, è stato molto divertente vedere anche come fanno i giochi grazie grazie